La risposta cristiana alla pandemia e alle conseguenti crisi socio-economiche si bassa sull'amore. Il coronavirus ci mostra che il vero bene per ciascuno è un bene comune, non solo individuale. E viceversa, il bene comune è un vero bene per la persona. Purtroppo assistiamo all'emmergere dei interessi di parte, come nel caso dei vaccini. Se le soluzioni alla pandemia portano all'impronta dell'egoismo, forse possiamo uscire dal coronavirus, ma certamente non dalla crisi umana e sociale che il virus ha evidenziato e accentuato. Per costruire una società sana, una società inclusiva, giusta e pacifica, dobbiamo farlo sopra la roccia del bene comune. E dunque è tempo di accrescere il nostro amore sociale. Voglio sottolineare questo, il nostro amore sociale. Dobbiamo costruire questa civiltà dell'amore. E questo è il compito di tutti noi. Grazie. Grazie.